ciao a tutti vi aspetto per sfidarvi insieme ai vostri amici al giro d'italia virtual bayern è facile basta iscriversi alla piattaforma garmin e scaricare la traccia e potremo pedalare tutti insieme una cosa importante non dimenticatevi la donazione su rete del dono alla croce rossa italiana nella lotta contro il coronavirus al link www.retedeldono.it slash giro